Il provvedimento nasce da una situazione che è diventata nell'ultimo periodo abbastanza delicata, una situazione che mette a rischio l'incolumità delle persone e soprattutto, o meglio, pari a questa situazione, c'è anche il controllo del territorio. Partendo da tutto ciò, con l'aiuto di tutti i protagonisti che sono stati attorno a questo tavolo, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, Questore, Comandante Provinciale Garabinieri, Comandante Provinciale Guardia di Finanza, il Procuratore Distrettuale, Dottore Paci, il Procuratore Di Palmi, Dottore Sferlazza, i sindaci, le autorità sanitarie, abbiamo concordato questa linea, una linea che noi indravidiamo nella cattura di questi animali attraverso anche tecniche narcotizzanti. E la soluzione all'annoso problema dei bovini vaganti, scaturita dalla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza organizzata in via straordinaria presso il Palazzo Municipale di Cittanova e prospettata alla stampa dal Prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari. Alla riunione hanno preso parte i vertici delle Forze dell'Ordine della Provincia, con i vari comandanti provinciali dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di Finanza. Presente il Questore Raffaele Grassi, il responsabile della Protezione Civile Regionale Carlo Tanzi, il Comandante dei Vigili del Fuoco, il Procuratore della Repubblica di Palmi, Ottavio Sferlazza, il Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Gaetano Paci, alcuni sindaci del territorio pianigiano, Fabio Scionti di Taurianova, Salvatore Foti di Terranova Sappominulio, Salvatore Valerioti di San Giorgio Morgeto. A fare gli onori di casa, il primo cittadino di Cittanova, Francesco Cosentino, presenti alla riunione quelli del Comitato Cittadino No Bull. Il problema delle vacche sacre si trascina ormai da oltre 30 anni. In queste ultime settimane gli incidenti con i bovini vaganti si sono moltiplicati. Ora arriva la soluzione portata avanti dalla Prefettura con l'idea di una task force coordinata dal Prefetto di Bari. I sindaci daranno un'allerta e io ho creato una task force cui parteciperanno personale delle forze di polizia, degli enti locali della città metropolitana, della polizia veterinaria, dell'ente parco, della protezione civile e dei carabinieri forestali perché credo che attraverso questa task force ci sarà la possibilità di catturare l'animale, di trasportarlo con i mezzi della protezione civile in un ricovero che sarà messo a disposizione dall'endeparco della Spromonte. Credo che questa soluzione che invia una soluzione ma comunque un'iniziativa che non può che avere un carattere sperimentale in questo momento sarà monitorata questa iniziativa fra due mesi e vedremo in sede di Comitato Provinciale dell'Ordine di Sicurezza Pubblica quali saranno gli esiti se questa soluzione deve essere integrata perché credo che non ci sono altre alternative. Partiremo in questi giorni.